Ciao a tutti, oggi a differenza degli altri video farò, svolgerò anzi questo piccolo quesito che l'ho trovato molto interessante, viene, è stato fatto per un test agli ingegneri che volevano candidarsi a lavorare per Amazon ed è un quesito appunto che dice un filo di 80 metri di lunghezza appeso, due estremi superiori di due aste di 50 metri di altezza. Qual è la distanza tra le due aste se la distanza tra il centro del filo appeso e del pavimento è di 10 metri? Ecco, io vi consiglierei a questo punto di fermare il video, di pensarci un attimo e di riprendere, non è immediato, bisogna un attimino pensarci ma alla fine poi è una cavolata. Vi dico, io stesso cercavo mille modi difficili per risolverlo con geometria euclidea eccetera ma alla fine la risposta stessa mi ha stupito. Bene, allora cominciamo a risolverlo. Innanzitutto, a quanto ho capito e non lo sapevo, gli ingegneri usano, appena vedono un problema di questo tipo, pensano a una funzione che viene chiamata catenaria. È una funzione particolare della curva piana iperbolica, più o meno ha un aspetto di una parabola per l'appunto alla forma, ed è questa funzione catenaria indica l'andamento caratteristico di una fune omogenea, flessibile e non ostensibile, i cui due estremi sono vincolati a questa forma. L'equazione di questa catenaria viene espressa col coseno iperbolico, proviamo a scriverla ma è poco importante, ha coseno iperbolico di x fratto a, dove ha appunto il parametro, il coefficiente del termine di secondo grado. O meglio, di ciò che viene ricavato in qualche maniera con l'inerente a una funzione quadratica. Poi c'è tutta una dimostrazione in cui esce questo termine. Vabbè, comunque questo non è il succo fondamentale, perché appunto, quanto ho capito, molti degli ingegneri che l'hanno fatto hanno utilizzato questa funzione e boom, trovano un valore. Ok? Errato, ovviamente. Perché si tende sempre ad avere una formula precisa, no? Per un problema e quindi il tutto diventa molto meccanico. Però adesso andiamo proprio a svolgerlo. Allora, se ci sta dicendo che la lunghezza del filo è di 80 metri, significa che la distanza tra un estremo e il punto più in basso, quindi dove noi abbiamo 10 metri, è di 40. E corrispettivamente anche di qua sarà 40. Giusto? Questo cosa significa? Che molto banalmente noi possiamo, quindi se noi sappiamo, che questa distanza è 40 metri e quest'altra è 40, noi cosa possiamo dire? Che è come se facessimo che alziamo il pavimento, diciamo, e facciamo andare il pavimento proprio nel punto in cui coincide col punto più basso. Ecco, allora. Ok. E quindi questo cosa implica? Implica che il filo, cioè la distanza di questo filo, di questo tratto di filo, è 40 e corrisponde all'altezza di questa sezione di asta, di questa parte dell'asta, perché ovviamente questo 50 è l'altezza complessiva, ma qua avremmo 40 metri e 10 metri, che è l'altezza appunto al pavimento, come viene impostato dal problema. significa quindi che i 40 metri di lunghezza del filo corrispondono a ricoprire completamente i 40 metri di altezza dell'asta. Questo cosa ti sta a dire? Che di conseguenza anche questi 40 sono i 40 metri dell'altezza dell'asta e di conseguenza non c'è più una distanza tra le due aste. Infatti la risposta a questo quesito, molto banalmente, è che la distanza tra le due aste è zero. E lo vediamo. Allora, questa è una funzione che esprime l'andamento, ok? E noi notiamo che, appunto, per, ad esempio, qua mi sta dicendo l'altezza e qua ovviamente la distanza tra le due aste. In questo caso la distanza è di all'incirca 60 metri e il punto più in basso è una distanza compresa, ad incirca sui 25 metri rispetto al pavimento. Notiamo che, però, il problema ci chiede di calcolare la distanza tra le due aste quando il punto più in basso è distante dal pavimento di 10 metri. E come possiamo notare quando il punto più in basso ha un'altezza di 10 metri rispetto al pavimento la distanza tra le due aste, ecco, l'asta 1 e l'asta 2, è proprio di zero metri. Quindi, appunto, la risposta corretta a questo quesito è zero. Spero che vi sia piaciuto, è un piccolo quesito matematico in cui, al di là di una semplice addizione, non abbiamo utilizzato nessun altro strumento matematico, quindi è molto semplice da capire, però il ragionamento che c'è dietro, insomma, non è così immediato. Spero che vi sia piaciuto, qualsiasi cosa scrivete nei commenti. Grazie.